Il lusso firmato Mercedes, così si presenta classe S, l'ammiraglia più venduta al mondo da sempre fa scuola per tecnologie e comfort, imponendosi nel mercato come vettura per pochi. Con la versione Maybach, l'esclusività raggiunge nuovi standard e rispetto al design semplice ed elegante di classe S, Maybach punta a farsi notare. L'eccentrica colorazione bicolore applicata a mano in una vettura di quasi 5 metri e mezzo difficilmente passa inosservata. L'esperienza di viaggio da prima della classe si rivolge alla clientela business che difficilmente si troverà a guidare la vettura, poiché la godrà comodamente da passeggero. Il passo è cresciuto di 18 cm rispetto alla sorella Mercedes, a tutto vantaggio dell'abitabilità posteriore. All'interno tanti dettagli elevano l'esperienza di viaggio. Si parte con la vista, grazie ai 253 LED che illuminano l'ambiente con un sistema di atmosfera attiva, controllabile dai display. Mentre si viaggia in posizione distesa, grazie ad un piano continuo di appoggio, si possono scegliere diversi programmi di massaggio, che partono dalla schiena e arrivano fino ai polpacci, riscaldando inoltre il sedile e i cuscili aggiuntivi su collo e spalle. Le orecchie riposano con il sistema di cancellazione attiva del rumore, che isola dal rotolamento delle gomme di frusci aerodinamici, proprio come accade con le cuffie, consentendo di immergersi all'interno del salotto di classe S. Con la predisposizione alla guida autonoma di livello 3 e tutti i tipi di assistenti alla guida disponibili, classe S propone una sicurezza al top. Basti pensare che in caso di impatto la vettura è in grado di alzarsi di 7 cm, scaricando l'impatto nella parte inferiore dell'auto. Tante le accortezze di una vettura che si rivolge ad un ristretto target di clientela molto facoltoso, ma che ha anche il compito di anticipare le tecnologie che tra qualche tempo vedremo sulle auto da tutti i giorni. Fino a quel momento sognare non costa nulla. Grazie a tutti.